Luigi Cocchi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, buonasera. Buonasera. E abbiamo anche Francesco Pinto, Procuratore Capo di Genova. Parto subito con una domanda per rompere gli indugi. Credete che la forma di questo referendum sia quella data per scegliere di 5 quesiti così importanti, tra l'altro per il settore della giustizia? Credete che soprattutto si possa raggiungere il quorum per come è stato posto questo referendum o comunque che i cittadini possano votare in modo conscezioso e consapevole, vedendo anche la formula delle domande che poi andremo ad analizzare? Parto da Luigi Cocchi. Certamente un referendum abrogativo che viene posto su queste norme che sono estremamente tecniche hanno bisogno di una diffusione e comprensione da parte del pubblico. Perché non si tratta di domande se che aborto sia o aborto no, cose di questo genere. Qua si tratta di andare a scrutinare il significato di queste norme e l'impatto di queste norme. La ragione di questi referendum però va trovata in un momento storico nel quale la politica non è riuscita mai a risolvere i nodi che sono sottostanti a queste domande. Tutte le riforme che sono state avviate anche dall'ultimo governo su questi temi non sono mai riuscite a trovare una coagulazione e una definizione. Quindi questo referendum è un modo di superamento di questa difficoltà politica di andare a legiferare in questa materia. Abbiamo scelto due persone con due posizioni diverse. Pinto, lei come la vede per questo referendum? Era la misura giusta per chiedere ai cittadini di esprimersi? Nella prima parte della risposta non posso che condividere quello che ha detto l'Avvocato Cocchi ma questo sarà uno dei motivi per cui io rifiuterò le schede elettorali perché ritengo che sia assolutamente impossibile riformare interi istituti che richiederebbero invece una seria riflessione attraverso una semplice abrogazione di una norma. Nel nostro ordinamento, come giustamente anticipava l'Avvocato Cocchi, il referendum è abrogativo di una disposizione. Quindi deve essere molto chiara per chi va a votare il fatto che abrogato a quella disposizione si ha una disciplina completamente diversa. Appunto, aborto sì, aborto no, divorzio sì, divorzio no, ma anche recentemente acqua pubblica sì, acqua pubblica no, nucleare sì, nucleare no. Non a caso per questi referendum c'è stata una forte partecipazione. Non credo che questi referendum appassionino francamente l'opinione pubblica. E in effetti il 12 di giugno, non si vota, lo sapete, soltanto per le comunali, ma proprio per questo referendum vedremo se i dati anche che arrivavano proprio dalla provincia di Genova per l'astensionismo, che già era abbastanza alto per quanto riguarda le elezioni comunali, saranno infatti dati confermati poi per questo referendum. Ma vi chiedo, in un minuto poi entriamo nel vivo dei vari quesiti per spiegarle ai nostri telespettatori perché sì, perché no, Cocchi. Allora, tanto voglio precisare che questa non è né una mia opinione personale, né un'opinione degli organi istituzionali dell'Avvocatura, ma è l'opinione degli organi politici dell'Avvocatura, cioè dell'organismo congressuale forense e delle associazioni forensi. Perché sì, perché sì, perché purtroppo tutte le riforme che sono partite con riguardo a questi temi non hanno mai trovato una loro soluzione. Ancora recentemente possiamo fare degli esempi, vediamo quella che è il disegno di legge preparato dalla Ministra Cartabia sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, questo è passato attraverso anche il vaglio di una commissione presieduta dal professor Luciani che è un clarissimo costituzionalista di cui mi onoro di essere amico, ma anche passata quella la riforma non è fatto passi avanti in Parlamento. Il problema è che questi tipi di riforme che si debbano fare e che non si debbano fare, questa si deve fare perché ce lo chiede la comunità europea, all'interno del PNR non si riescono a fare. Questa è la ragione della rottura del principio per cui il potere legislativo aspetta il Parlamento e qua si fa un esercizio di democrazia creditetta, è proprio questo. Quando l'esercizio del potere legislativo non è sufficiente per poter risolvere un problema. Pinto, in parte lei mi ha già risposto, ma perché ha deciso di rifiutare queste schede? Perché da un lato i tre referendum che attengono all'istituzione della magistratura sono totalmente inutili perché non riescono neanche a raggiungere, pur abrogando quelle norme, i fini che si prospettano. Gli altri due invece addirittura sarebbe dannosa se passassero, perché se passa quello che riduce le possibilità di misura della custodia cautelare con riferimento al pericolo di reazione dei reati, noi avremmo che per i classici reati predatori come furti, rapine, eccetera, non ci sarebbe la possibilità di usare la custodia cautelare per evitare la realizzazione dei reati. L'abrogazione della legge di Severini poi sarebbe una legge che andrebbe assolutamente a favore dei corrotti che a vario titolo si candidano alle elezioni oppure rimangono in Parlamento. Quindi sarebbero dannose in questo caso. Entriamo allora nel merito, in parte l'abbiamo già anticipato questi quesiti, parto proprio dal primo, chiedo anche alla nostra regia di mostrarcelo. Provo a leggervi soltanto il primo, io ho un po' studiato, ma vi assicuro che sono complicati. Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958 numero 195 nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate limitatamente alla seguente parte, articolo 25,3, limitatamente alle parole unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a 25 e non superiore a 50. Magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23 ne possono candidarsi a loro volta. Questo è l'unico che leggerò, poi gli altri cercherò invece di farveli direttamente spiegare anche perché alcuni sono lunghissimi. Questo tratta della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. E allora, che cosa succede se voto sì, Cocchi? Se voto sì, il sistema elettorale che è previsto attualmente dalle norme sull'ordinamento giudiziario viene vulnerato e deve essere sostituito da un altro sistema. E cioè sostanzialmente i tre che riguardano l'ordinamento giudiziario sostanzialmente hanno una logica abrogativa in funzione di una rimozione di alcune norme impeditive di una riforma più organica, più completa dell'ordinamento giudiziario. Oggi la Commissione Luciani ha risposto un testo, questo testo non va avanti, questo è uno dei profili per cui la Commissione Luciani ha introdotto in quel testo delle modifiche assolutamente non significative e non tali da rimuovere quelli che sono gli inconvenienti che possono derivare da questo sistema elettorale. E cosa succede invece se voto no? Rimane tutto così com'è, ma perché votare no? Io continuo a dire che non bisogna neanche votare, perché questo per esempio è un quesito assolutamente insignificante, nel senso che modificherebbe soltanto i profili di presentazione di un candidato all'elezione del CSM, adesso ci vogliono 25 firme di appoggio, togliendo questa norma io posso candidarmi senza avere l'appoggio neanche del mio vicino di stanza, del collega. Francamente mi sembra una cosa soprattutto irrilevante, insomma. L'intento sarebbe stato diverso, nel senso che si sarebbe voluto addirittura pensare a forme di elezioni del tutto incostituzionali, in cui addirittura i magistrati sarebbero stati sorteggiati per il Consiglio Superiore della Magistratura, cosa che francamente è contraria alla Costituzione. Ma una norma di questo genere francamente del tutto irrilevante per raggiungere quello scopo. Che non è propugnata neanche da noi, per verità. Allora, adesso ripartirò invece da Pinto per il secondo quesito che tratta dell'equa valutazione dei magistrati. Che cosa significa? E soprattutto entrano in gioco qui i consigli giudiziari che appunto sono consigli territoriali che vedono la partecipazione non soltanto di magistrati ma proprio anche di persone più laiche come proprio gli avvocati e i professori universitari in materie giuridiche. In merito a questo, che cosa cambia questo secondo quesito se passasse il sì e che cosa non cambierebbe invece con il no? Se passa il sì, si darebbe nell'ambito dei consigli giudiziari e la possibilità di votare sulla professionalità dei magistrati anche ai componenti avvocati e ai componenti laici, professori universitari. La cosa francamente a mio avviso sposta poco, dico un parere personale perché anche in magistratura non c'è unanimità di punti di vista da questo punto di vista. Devo dire peraltro che i consigli giudiziari sono un'espressione diciamo locale e soprattutto in alcune sedi piuttosto calde diciamo secondo un'opinione abbastanza diffusa non è opportuno che avvocati che ogni giorno vengono in possibile conflitto con i magistrati possano poi dare precise indicazioni con riferimento alle valutazioni di professionalità. Altra cosa, evidentemente cosa che però già esiste è la segnalazione da parte del singolo avvocato a maggior ragione dei consigli dell'ordine di situazioni nel momento in cui il magistrato viene scrutinato dal consiglio giudiziario. Questa potestà di segnalazione già esiste ed è bene che esista insomma. Perché gli avvocati invece vogliono contare qualcosa in questi consigli territoriali? Ma le spiego, c'è un problema di sistema cioè all'interno di tutti gli organi di amministrazione della funzione giudiziaria consiglio superiore di magistratura consiglio di presidenza, consiglio di stato della giustizia amministrativa il consiglio di presidenza della corte dei conti c'è una rappresentazione dei laici minoritaria evidentemente in funzione di trasparenza e di rassicurazione dell'imparzialità nell'esercizio di queste funzioni non si capisce tanto qual è il problema perché noi in realtà già partecipiamo come componenti al consiglio giudiziario quello che viene legato all'avvocato è quello di esprimere il voto cioè partecipa ma non deve esprimersi ci sembra una partecipazione così monca tanto più che io rifiuto il concetto di conflitto tra avvocati e magistrati rapporto tra magistrati e avvocati io sono nipote di un magistrato figlio di un avvocato non è un rapporto di conflitto è un rapporto di tanto di rispetto ed è dei rispettivi ruoli che all'interno della giurisdizione sono coessenziali quindi basta essere chiari dell'impostazione dei rapporti non vedo nessuno scandalo sul fatto noi come consiglio degli ordini sugli uffici direttivi siamo già chiamati a esprimere il nostro parere come voglio dire non percepiamo questo ostacolo quando poi al Consiglio Superiore di Statura i laci fanno la loro parte e negli altri organi ugualmente direi che può spaventare credo anche i più informati soltanto anche per il carattere che è stato scelto per questa scheda portate una lente di ingrandimento se volete leggerlo bene ma ve lo consiglio di leggere a casa e appunto cosa tratta questo lungo papiro semplicemente della separazione delle carriere dei magistrati sulla base di distinzione tra funzioni di giudicanti e requirenti quindi magistrati che in sostanza possono cambiare il proprio incarico nel corso della loro carriera giudiziaria e passare da essere PM a appunto invece giudici su questo Cocchi qual è la vostra posizione la sappiamo ma perché e poi voglio sentire anche ovviamente la replica di Pinto allora su questo punto l'avvocatura che è spaccata su molte cose è invece un evocamento orientata qui si stiamo parlando attenzione di separazione delle funzioni e non di separazione delle carriere l'avvocatura non ha mai detto che IPM cioè la magistratura requirente non debba essere una magistratura e non debba godere delle stesse garanzie della magistratura dice soltanto che all'interno di uno Stato che ha scelto di fare il processo accusatorio stiamo parlando del processo finale e in uno Stato che ha inserito nella nostra Costituzione il principio del giusto processo inserendo l'articolo 111 a ricepimento dei principi dell'acedo il giudice deve essere terzo imparziale tra le parti lo Stato quando fa le cause nel diritto civile ha l'avvocatura dello Stato che è una magistratura anch'essa non è però una magistratura che oggi fa il giudice domani fa il magistrato questo è un elemento che rischia di vanificare il principio della terzietà del giudice e noi diciamo separazione delle funzioni non delle carriere Pinto dal suo punto di vista lei avrebbe potuto scegliere all'inizio della sua carriera appunto quale funzione seguire e soprattutto ritiene che sia uno strumento necessario guardi io ritengo che sia addirittura formativo per un magistrato riuscire a avere tutte le tappe possibili io ho avuto la fortuna ho lavorato all'inizio della mia carriera al tribuna di Torino ho fatto solo il giudice sia penale e poi anche civile e solo successivamente ho ritenuto di approdare a fare il pubblico ministero ritengo molto pericoloso il fatto che oggi ci sia una sclerotizzazione in entrambi i ruoli perché oggi di fatto praticamente noi già abbiamo una situazione in cui la gran parte dei magistrati nasce PM e finisce la carriera PM o nasce giudice e finisce la carriera giudice questo sta creando un vero impoverimento della giudizia questo come dato generale come dato particolare anche questa volta il quesito è sbagliato perché in realtà come giustamente con la sua nonestà intellettuale che lo caratterizza diceva l'avvocato Cocchi l'obiettivo che ha l'avvocatura in realtà è la separazione delle carriere che attualmente è vietata dalla Costituzione perché la Costituzione prevede un unico ordine giudiziario quindi noi parliamo soltanto di separazione di funzioni nell'ambito di un'unica carriera che tale rimane e quindi questo quesito oltre che inutile è anche dannoso perché sostanzialmente mantiene un'unicità della carriera ma non consente sostanzialmente ai magistrati un arricchimento professionale di potersi cimentare in entrambe diciamo così le funzioni sia giudicante che requirente con arricchimento professionale peraltro i pericoli di cui parlava l'avvocato Cocchi sono già sventati dall'attuale legislazione perché oggi una persona che vuole fare un magistrato che vuole fare che fa il PM vuole passare a giudice lo può fare soltanto in un distretto diverso rispetto a quello in cui eserce le funzioni del PM quindi non vedo quale sia il motivo di cambiare usciamo diciamo dall'ambito prettamente legato alla magistratura per andare invece a parlare degli ultimi due quesiti il primo e il quarto tratta dei limiti agli abusi della custodia cautelare e allora la custodia cautelare significa appunto mettere in carcere o comunque le misure cautelari per le persone appunto che sono in attesa di giudizio almeno questo è quello che emerge da questo quesito perché allora l'avvocatura ritiene che questo sia anche uno sperpero di denaro pubblico e sia una diciamo una decisione che non deve essere presa l'avvocatura ha una posizione per sua natura garantista dei diritti noi abbiamo una stato e un ordinamento costituzionale che è fondato sulla presunzione di innocenza e purtroppo nella nostra vita tutti quanti noi abbiamo visto tanti soggetti condannati in primo grado condannati in secondo assolto in Cassazione pensi un po' a chi ha avuto le misure cautelari dopo il primo grado per esempio e poi si è visto la sentenza annullata dalla Cassazione qual è il tipo di remunerazione che può avere dall'ordinamento l'ordinamento deve essere un ordinamento che con delle misure cautelari evita degli fenomeni perversi ma non può secondo me anticipare l'esecuzione della pena cioè la sostanza a un momento anteriore al passaggio in giudicato della sentenza con la condanna per chi per il sì quindi si tratta di una forma anticipatoria della pena ma in realtà è una misura preventiva voi l'adoperate in questo modo in un mondo ideale quello che dice l'avvocato Cocchi è da sottoscrivere purtroppo i processi hanno una durata che deriva anche dalla complessità evidentemente delle indagini e la custodia cautelare è prevista per il pericolo di fuga dell'imputato per il problema dell'inquinamento delle prove e poi per il problema della pericolosità nel senso della possibilità che l'imputato possa commettere reati dello stesso tipo nel momento in cui vi sono gravi indizi per cui ne ha commesso qualcuno ora il quesito attiene a quest'ultima parte diciamo della custodia cautelare che è quella che è naturalmente più diffusa perché tutti quelli che sono i reati diciamo di carattere predatorio il piccolo spaccio di superfacenti sono tutti reati commessi quasi sempre da persone che delinquono in maniera diciamo così costante quindi evidentemente ci sono esigenze anche di prevenzione sociale che stanno alla base di queste misure evidentemente è una scelta di carattere politico però si sappia che se si vota poi questo tipo di referendum questo sì evidentemente tutte quelle che sono le ragioni anche di prevenzioni sociali che sono caricate sul processo penale verrebbero meno posso fare una piccola replica io però voglio segnalare l'esigenza di quel cittadino che ha subito la misura cautelare e poi è stato assolto e ci sono delle forme riparatorie rispetto sono dei rischi che un ordinamento che deve tutelare anche i beni dei cittadini e la libertà dei cittadini certamente ci sono istituti riparatori ma anche per le altre due fuori perché la custodia cautelare attiene anche al pericolo di fuga o al pericolo di inquinamento delle prove quindi voglio dire c'è un discorso complessivo portando agli estreme conseguenze il ragionamento dell'avvocato che bisognerebbe abolire totalmente le misure cautelare poi però vediamo come si faranno l'atmosfera è calda ma veniamo all'ultimo quesito che vado anche a leggervi perché tratta dell'abolizione del decreto severino volete voi che sia bloccato il decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235 il tasto unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1,63 della legge 6 novembre 2012 numero 190 era corto quindi potevo permettermelo riparto in questo caso da Pinto perché questa abrogazione non sa da fare ma guardi su questo francamente io sospendo il giudizio nel senso che qui c'è un paradosso in questa situazione cioè questa legge è una legge che si è data alla politica con riferimento al fatto che ci sono stati casi paradossali di persone spesso anche proprio con tanto di aura di mafiosità addirittura con sentenze di condanna passate che non sono mai state rimosse né da consigli comunali né dal Parlamento a un certo punto la misura è stata talmente colma che la stessa politica decide di porre diciamo così dei limiti sia la candidabilità di persone di questo genere sia la permanenza di persone di questo genere in organismi elettivi su questo davvero l'azione della magistratura non c'entra per niente perché noi abbiamo dal punto di vista dell'azione dei magistrati misure di carattere interdittivo che possono essere assunte durante lo svolgimento del processo sono diciamo misure di carattere cautelare di un certo tipo che non toccano però il referendum di cui stiamo parlando finché non ci abbreranno anche quelle e poi misure finali interdittive nel momento in cui c'è la condanna per altri reati la politica ha voluto dare con questa legge una maggiore diciamo così immagine moralizzatrice e quindi è un precetto che dà a se stessa adesso non si capisce perché a distanza di qualche anno bisogna diciamo riformare tutto e ritornare a prima come cittadino direi che è un passo indietro francamente rispetto a quello che erano certi intenti la replica spettacocchi perché ovviamente queste norme sono fortemente sospettate di legittimità costituzionale come voi sapete il tribunale di Genova con l'ordinanza del 2019 le ha rimesse alla costituzionale che non le ha dichiarate incostituzionali con una sentenza che è stata molto criticata sul piano scientifico la questione è stata nuovamente rimessa alla costituzionale che dovrà decidere sono state avviate delle disegni di legge di modifica della legge Severino perché perché in realtà all'interno di questo intento di moralizzazione vengono a trovarsi e a effettuarsi delle situazioni che sono grandemente inique faccio un esempio ci sono passato della Liguria non voglio fare nomi e cognomi ci sono consigli regionali condannati per spese pazze nei processi di spese pazze per 1200 euro ok condannati assolti in Cassazione che hanno dovuto dismettere il mandato originale lei mi dice un attimo chi remunera chi reintegra la posizione giuridica di questi signori cioè allora perché una misura che può essere di moralizzazione deve essere di moralizzazione intelligente non aberrante come queste in fattispecie specifiche perché perché come io ho sempre sostenuto bisogna dare ai giudici un potere discrezionale di valutare le misure di questo genere non erogarle automaticamente la legge pone nella stessa posizione che chi è accusato di aver preso 1200 euro e con quello che ha portato via Grisby se non c'è se non c'è un potere discrezionale dei giudici e i giudici devono avere e esercitare il loro potere giudizionale ma non sempre così almeno questo che emerge dal testo io ringrazio Luigi Cocchi Francesco Pinto per averci guidati verso il 12 di giugno giornata in cui non si vota soltanto per le elezioni comunali ma proprio per il referendum sulla giustizia allora credo che con questa mezz'ora insieme abbiamo fatto il punto e vi abbiamo dato nel rispetto anche in questo caso della par condicio tutti gli elementi per andare a votare consapevolmente o non andare